Carissimi amici, ascoltatori e telespettatori, siamo tornati a Rieti per parlare nuovamente con Mariano Calisse. Molte volte lo abbiamo presentato al nostro pubblico e devo dire è stato molto amato per il suo amore nei confronti della tradizione e dei valori. Siamo qui perché vogliamo portare avanti tutto quello che in questo periodo il vostro partito, in un certo qual modo, e anche la candidata, intende appunto portare avanti e far conoscere un pubblico nuovo. Sì, intanto ti ringrazio per tutte le volte che testimoniate il nostro impegno sul territorio, un territorio difficile che ha bisogno delle migliori energie per valorizzare quelle che sono le tante risorse che abbiamo. Siamo all'indomani della campagna elettorale per gli europei che sembra lontana, invece tocca la vita di tutti i giorni di ognuno di noi. Come partito lega abbiamo deciso tutti insieme di candidare Francesca Dionisi, che è sicuramente una persona molto spendibile e che di certo darà un contributo importante al partito, ma soprattutto al territorio. Oggi è stata una bellissima giornata, ci attende una delle tante sfide che già abbiamo vissuto in passato con ottimi risultati e tante soddisfazioni e sono sicuro che anche questa volta non saremo da meno. Grazie Mariano per tutto quello che fate sempre nel territorio, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie a voi.